Non perderti i prossimi episodi di non pensavo di essere sobrio e a seguire occupo casa disperatamente. Mi passi il plutonio? Certo. Mi passi il plutonio? Certo. Mi passi il plutonio? Certo. Ci passiamo il plutonio da interi generazioni. Cosa state facendo? Sto coprendo la ruggine e Giovanna mi aiuta. Brava Giovanna. Brava. Lona ma cos'è il nucleare per te? Frammenti di tante emozioni. Svizzero? No. Urs. Chi ha detto che il miglior plutonio è quello svizzero? Plutonio per passione dal 1986. In diretta dallo stadio dislocato all'est. Dynamo Call Center FC Shalalap. La finale di Champions Spam. Mercoledì. Orario continuato. Dai colli alla vostra tavola. Aroma intenso. Fruttato. Riflessi Granata. Dallo Stapo inconfondibile. Ottimo avvinato a primi piatti di plutonio o secondi piatti di uranio. Ehi, ma questa confezione sembra fatta per lo spazio. Zia Chiatta, ma come hai fatto a disintossicarti da quell'esplosione nucleare vicino a casa tua? Bevo vodka ogni giorno che mi depura dalle scorie radioattive. Vodka e Vodka sono le AQ della Salute. Sponsor ufficiale della Nazionale Alcolisti Anonimi. Condotto da Bruno Vespul. Porta a porta. Ogni ieri notte alle 23. 6.800.000 persone ascoltano ogni giorno Canale Test. Veri inutili parodie. Sbattitore con turbo all'osso. 300 KB. 5 velocità di turbo, compresa retromarcia. Completo di 2 fruste. 2 ganci per pestare. Ed un auricolare bluetooth per sentire anche a distanza il rumore del frullatore. A 19 ore 999. 3 anni di garanzia salvoguasti. Questo è tanto難o che trovare con sfodio.